Buongiorno a tutti i miei cari amici dal vostro carissimo amico Giacomo Introna Iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna, condividete il video se vi è piaciuto e mettete un like Buongiorno a tutti dal vostro carissimo amico Giacomo Introna Iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna Un bacio e un abbraccio a tutti dal vostro carissimo amico Giacomo Buona giornata